Sei un ragazzo giovane, quest'estate eri svincolato, hai fatto bene al Bari negli ultimi mesi, quindi potevi far gol a tanti. Mi dici perché proprio Verona, perché hai scelto Verona? Sì, era un momento difficile nel summer. Stavo aspettando circa due settimane per ottenere questa ufficiale statement che sono un giocatore libero. Io ho scelto Verona perché credo che questo è un posto importante, è un club importante nella storia dell'Italia, è un club importante in Italia e anche perché conosco a Fabio Grosso, so cosa vuole fare sul giocatore, quindi è più facile per me adattare la squadra. Conosco ciò che vuole in campo ed è stata facile scegliere, è stata una facile conseguenza. Non hai giocato la prima di campionato, ti abbiamo visto scaldarti per tanto tempo, però Verona ti sta già portando fortuna perché se non sbaglio è arrivata una convocazione in nazionale. Sì, mi sembrava che Almići ha un piccolo problemi, ma credo che è stato così in Bari. Sì, mi sembrava che mi sembra di lavorare sul giocatore, per essere in prima squadra. e questo sarà anche in Verona, per provare che mi permette di giocare nel primo gioco. Siamo anche che il coach del sloveno nazionale è guardato, e io sono sulla lista, perché è l'inizio del gioco, e credo che ho molto tempo per provare al mister che posso giocare e questo sarà bene per me e per la squadra nazionale. Sto aspettando la mia chance, per quanto riguarda la Slovenia so che il CT mi sta guardando e quindi questa è una dimostrazione anche della convocazione nazionale, mentre per quanto riguarda il resto siamo ancora all'inizio e avrò sicuramente il tempo per dimostrare il mio valore. Ti descrivi come giocatore, sei solo un terzino sinistro, puoi ricoprire più ruoli, che tipo di giocatore sei? Quali soluzioni puoi dare a Fabio Grossi e a questo Verone? Sono preparato per giocare in una posizione in cui mi chiede, ma ora per un lungo tempo ho giocato solo l'altra parte, quindi molti anni fa ho giocato come centrali e anche più in attacca, ma ora per 3-4 anni ho giocato solo l'altra parte, ma come ho detto, sono preparato per giocare in alcune diverse posizioni, se non è necessario. Che consigli ti dà? Perché comunque faceva il tuo stesso ruolo, Jure? Sì, credo che è molto importante, è stato molto importante, è stato in mia mente, è stato in miei pensi che ha giocato l'altra parte, e penso che mi può aiutare molto, perché è stato in grado di fare il suo ruolo, quando si spaventò, quindi penso che è molto importante, che mi può aiutare, che mi può aiutare, che mi può aiutare, e questo è stato anche un'altra delle ragazze, e poi vado a Bari e ora ancora a Helas. Allora, dopo l'inizio difficile la Coppa Italia di Catania, i tifosi si aspettavano una vittoria con il Padova, che non è arrivata. Sì, vado che qui tutti aspetti che ciò ad slashare di vincere, non mi piace in un altro modo quindi mi piace di venire ogni match contro Padova è stato un po' difficile match e sarà lo stesso in ogni match in Serie B perché ogni team è buona penso anche il settore il match against Kosenza sarà molto difficile ma in ogni match andiamo con il cuore che vogliamo vincere e come ho detto come fare il signore Grosso è il suo lavoro siamo tutti preparati tutti i giocatori lavorano molto bene lavorano molto bene lavorano molto bene è anche una buona competizione tra i giocatori e credo al principio sarà magari come questo come Padova e penso quando siamo acostumbrati ai giocatori che giochiamo penso siamo meglio tutti ci aspettavamo una vittoria per quanto riguarda il match con il Padova perché è inutile nasconderlo ma a tutti piace vincere contro il Padova è stato un match molto difficile come lo saranno tutti in questo campionato a Kosenza sappiamo perfettamente che sarà uguale ma nella nostra testa c'è la voglia di vincere e in più Grosso ci sta preparando sul campo per dare il massimo e ci sprono sempre a dare il massimo anche fra di noi compagni il gruppo si sta cementando e questo sono convinto ci aiuterà da qui in futuro ci racconti un po' chi è Balcovez non so qual era il tuo il tuo idolo quando eri ragazzino poi che squadra facevi il tifo se hai delle passioni extra extra calcio e poi che cosa conosci di Verona se sei se hai avuto tempo di andare a fare un giro in città se avevi dei compagni che sono passati di qui o comunque anche degli ex calciatori che sono passati da Verona che tu poi hai conosciuto e ti hanno raccontato che cos'è questa città questo club e questa tifoseria è sì ho avuto il tempo per andare a Verona ma penso per me questo non è così importante mi piace mi piace concentrare sul football mi piace la città ma penso che devo guardare le train e preparare per essere il meglio possibile per la squadra ho avuto tempo per girare la città mi piace tantissimo ma ho scelto appunto di rimanere vicino al centro sportivo in modo tale di essere più concentrato sugli allenamenti se da ragazzino avevo un idolo se faccio il tifo mi piace guardare Marcello da Real Madrid perché è buono in attaccare mi piace attaccare e questo è uno di i giocatori che mi piace guardare Marcello da Real Madrid perché è molto bravo ad attaccare quindi è un giocatore che mi piace osservare ciao Gaudio Pedellino Radio RCS volevo sapere nel tuo ruolo tu ti senti più adatto a difendere o il tuo gioco è più portato a spingere in avanti è dipende non so è diverso ogni un gioco è diverso quindi dipende le tattiche dipende di cosa voglio mi piace attaccare ma a volte non è possibile ma so che il mio primo ruolo è difendere quindi quando difendere prima in il match puoi attaccare bene ogni match è diverso dipende dalla tattica che decidiamo di adottare in quella partita e da quello che il mister vuole sicuramente il mio ruolo richiede prima di tutto quello di difendere quindi cerco di rimanere concentrato sulla difesa anche se mi piace attaccare proprio su questo discorso di attaccare tu sei il classico terzino cioè giocatore di fascia che una volta che spinge riesce a arrivare sul fondo e poi crossare o una volta che superi il tuo avversario e arrivi verso la metà campo avversaria cerchi di dialogare con i compagni magari questo è per alcuni altri ma penso che sono il tipo di giocatore che può crossare molto mi piace crossare mi piace fare assist quindi direi che mi piace crossare molto penso di essere appunto quel tipo di giocatore a cui piace crossare tanto personalmente appunto mi piace e soprattutto mi piace perché così posso riuscire a fare assist per i miei compagni ciao Alberto Fabri è la Slaib benvenuto a Verona innanzitutto ti chiedo la tua idea del calcio italiano visto che ormai sei qua da qualche mese mancano poche ore il fisco inizio di Cosenza Verona e al momento il campo di Cosenza non è ancora pronto che ed è ti sei fatto oltre a questo i vari ripescaggi questa confusione generale che alleggia nel calcio italiano queste cose sì i giocatori abbiamo ascoltato questo ma è così abbiamo ascoltato e poi continuiamo a trainare perché siamo pronti per il match i fan vogliono vincere non importa come è il pitch quindi stiamo guardando come train come prepariamo per il match e anche se il pitch è buono vogliamo vincere ma bisogna vincere quindi troviamo un altro modo sicuramente sicuramente noi calciatori abbiamo sentito quello che sta accadendo fuori per noi dobbiamo rimanere concentrati sul match come allenarci come preparare la partita per portare a caso il risultato positivo rimanendo concentrati appunto sul campo immaginavo già la tua risposta ti chiedevo questo perché tu l'anno scorso a Bari hai riscontrato dei problemi forse ancora più grossi e la stagione del Bari di grosso non è andata come i tifosi del Bari si aspettavano anche per questi problemi extracalcistici sì ovviamente credo questo ha influenzato ma come ho detto prima i giocatori non pensavamo molto su questo proviamo per ogni trening e ogni match di giocare così bene possibile e in questi difficolti momenti credo più devi essere preparato e devi fare un buon match e poi vedrai in questi difficolti momenti quanto buon è un giocatore possibili riuscivamo a giocare bene anche a compattarci e superare i problemi che c'erano fuori per gli addetti ai lavori il Verona è una delle squadre candidate a fare un campionato da protagonista non diciamo a raggiungere quell'obiettivo che abbiamo già capito qual è però bisogna dimostrarlo sul campo e se contro la Juve Stabia si era visto gioco abbinato al risultato a Catania dove tu peraltro hai giocato titolare abbiamo fatto un passo indietro e col Padova a parte l'ultimo quarto d'ora non abbiamo dato conferma appunto di queste qualità riassumo il mio pensiero bisogna adesso dimostrare sul campo che questa squadra è una squadra che ha qualità ovviamente penso è importante che non parlare troppo che ci vediamo sul campo è normale che al principio al principio della season ci sono problemi ci sono come spiegare bene ma non spiegare bene è normale per il principio della season penso che con il lavoro sul pietro arriverà arrivare al punto dove spiegare bene ogni match e penso i risultati con questo lavoro arriveranno assolutamente ora è il momento di parlare poco di far vedere sul campo quanto valiamo è normale che all'inizio della stagione ci siano questi alti e bassi però sono convinto che più giochiamo insieme e più avremo l'occasione di fare bene nell'augurarti in bocca al lupo per la nuova avventura in giallo blu possiamo confermare e chiudo con una battuta che non abbiamo ancora visto il vero Balkovec anche perché la partita di Coppa Italia non era trasmessa in televisione quindi pochissimi ti hanno potuto vedere dal vivo però io che ero presente al Massimino mi è sembrato di vederti con le briglie come un cavallo con le briglie ancora tirate non è ancora dimostrato chi è veramente Jure Balkovec a Verona Sì, credo è un po' solo un match è stato un po' come ho detto ogni inizio anche per me non solo per la squadra è difficile credo quando mi adaptare più a la squadra e quando mi spazzo più con i giocatori che non conosco ancora credo che i giocatori e tutti gli altri vedranno la verità in me è stata una delle prime partite e ogni inizio è difficile posso sicuramente dare di più e posso anche ma andando avanti posso sicuramente anche conoscere meglio tutti i miei compagni soprattutto quelli della difesa con cui giocherò insieme